In questo video vedremo alcune opzioni posizionandoci con il mouse sul badge del cliente. Clicchiamo con il tasto destro e compaiono delle icone. Avremo questa icona verde con la freccia bianca. Questa è l'icona di uscita del cliente dalla cassa senza emettere la ricevuta. Se clicchiamo su infatti ci viene richiesto se vogliamo far uscire il cliente come se non fosse mai entrato. Se digitiamo su ok uscirà completamente dalla cassa. L'icona della persona se clicchiamo su ci dà diverse opzioni. Partendo dall'anagrafica quindi tutti i dati personali del cliente. Il cognome, il nome, il sesso, data di nascita. Qualsiasi modifica facciamo poi dobbiamo cliccare su salva. Le note tecniche, quindi le possiamo inserire e poi cliccare salva nota. Lo storico che ci permette di vedere le ricevute, il numero di ricevute, la data, quindi con il servizio effettuato ed il prezzo. Le abitudini del cliente, quindi possiamo indicare anche il periodo di interesse. Se cliccare su go e ci compare tutto quanto il menu nel riquadro sottostante. Dovremo le descrizioni, dei servizi effettuati, le quantità, eventuali sconti, il prezzo, il totale incassato. E l'operatore che ha effettuato il servizio. I contatti. Cliccando su nuovo contatto possiamo scegliere la tipologia da inserire. Ne avremo diversi a disposizione. Indirizzo, stessa cosa. Clicchiamo su nuovo indirizzo e scegliamo se inserire quello di casa o d'ufficio. E contabilità. Se volessimo registrare la ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale del cliente. Ad ogni modifica ricordiamo di cliccare su salva e dopodiché si esce e si torna sulla pagina iniziale.